sono i trattati che stabiliscono come funziona la rotazione a livello di consiglio europeo non è non è la sinistra ripeto sono i trattati poi per il resto ritengo che comunque il modello ungherese andrebbe conosciuto meglio andrebbe studiato meglio perché mi sembra sempre che ci sia la propensione a dipingere governo di orban con con parole con con espressioni molto molto peggior rispetto a quella che è la realtà abbiamo visto che in ugheria i tassi di crescita sono dei tassi interessanti prendono di crescita economica di crescita demografica gli imprenditori italiani che si trovano in ugheria si trovano bene per cui oggettivamente penso che prima di criticare un modello bisognerebbe conoscerlo